Oh ragazzi sono ancora tutto ammalato come potete vedere qua ci sono tutti i fazzoletti che ho appena usato E per chi non lo sapesse io sono il presidente e adesso è arrivato il momento di andare a fare colazione E allora per favore vorrei un cappuccino e una brioche C'è qualcuno? Barista? Sono il presidente io barista Ragazzi ma è vuoto ma dov'è il barista? Eccolo qua il barista Ma si stanno guardando i video Ah ho già capito anche voi a vedervi il nuovo episodio dei Mythbusters vero? Certo signor presidente Oh com'è questo nuovo episodio? Magnifico carino carino dai Allora carino dai non è la giusta risposta Io sono il presidente tu devi dire che è tutto bello tutto bellissimo ed è per questo dato che questo video sarà bellissimo Ragazzi playerini dobbiamo arrivare assolutamente a 10.000 like per il prossimo episodio di Mythbusters Mythbusters perché voi vi siete andati a sdraiare sopra al divano del presidente? È colpa di alga O mi baci subito i piedi oppure ti stacco con la testa Subito Tra 3, 2, 1 e ci hai messo troppo Tec Hai capito non si scherza mai col presidente Il primo mito ragazzi ce l'ha scritto shadowfire7345 e dice Zofia si può rianimare se rimane come ultimo operatore d'attacco oppure li da il round perso Cioè ragazzi io vi voglio far vedere che per leggere alcuni dei vostri commenti a me serve il traduttore automatico Perché qua ragazzi c'era scritto Zofia si può ricreare se rimane come come ultimo operatore d'attacco Ragazzi like GG soprattutto per il traduttore automatico che ho in testa Perciò in pratica adesso noi vedremo che cosa succede se Zofia rimane per ultima e poi va in ferimento Perciò prima di tutto dovremo eliminare il povero Della che non so che cosa sta facendo Vai cavera a coltella Della Addio Della E liscio Eccolo Ok adesso atterrami Speriamo però che ci faccia atterrare Ok 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 ottimo 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 Adesso allora andare a terra posso andare a terra Adesso devo vedere se però mi fa rianimare Adesso provo a rialzarmi Attenzione ragazzi Troppo fiera Troppo fiera Ce la fa Ce la fa Perciò ragazzi se si rimane uno contro uno E Zofia va a terra Zofia si può rianimare Il secondo mito c'era scritto xx astral xx e dice con twitch si può distruggere il jammer che ha nella schiena vigil Ragazzi per chi non lo sapesse vigil dietro di lui ha tipo uno zainetto che contiene diciamo una sorta di jammer che gli permette di essere invisibile Ora andremo a vedere se col drone di twitch si può rompere il jammer che c'è sulla schiena del vigil Guarda adesso io vedi che mi accovaccio vai vai Aspetta Hai sparato allo zainetto? Eh sì si si spara allo zainetto Mi fa solo danno Sì esatto Fa solamente danno in pratica lo zainetto che ha vigil è come se fosse È solo per estetica Esatto è solo estetico Com'era? Com'era della? È solo per? Non ho sentito? Solo estetica 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 vero? Estetica È solo per estetica oppure per estetica Oh ma che ti succede alle tue gambe? Ma che c'hai oh della? Guardalo E niente ragazzi non si può distruggere il jammer che ha sulla schiena Vigil Il prossimo mito ragazzi c'era scritto I'm skills e dice Ma se un attaccante lancia una granata e il difensore la rilancia ma la tiene in mano Da l'uccisione all'attaccante o il suicidio al difensore Ve lo rispiego ragazzi In pratica se adesso io lancio una granata addosso al nostro amico Alga E Alga la tiene in mano Una volta che la granata esplode mi dà a me l'uccisione oppure dà che Alga si è suicidato Oh sei pronto Alga? Vai È qua che rotola eh Vai Pigliala Tienila tienila Oh oh mamma mia che potenza ragazzi Che potenza Guarda guarda Oh ma che bella Ma che è sta roba Ragazzi come avete visto ha dato che c'è stato il suicidio Il prossimo mito ragazzi ce l'ha scritto Riccardo Granziolo E dice Doc con la sua pistola curativa può rompere un drone? E adesso ragazzi andremo subito a vederlo Intanto c'è sto drone Oh basta muovere sto drone Sei pronto? Prontissimo Vada 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 e non cincischi Hai sparato sul drone? Sì E niente ragazzi mito sfatato Doc con la sua pistola curativa non può rompere i droni Vediamo se invece io riesco a fare un collateral Uh io sì io sì ragazzi Oh ma guarda che infame oh Il prossimo mito c'era scritto R6 sere E dice se Capcan piazza un Capcan più alto possibile E un attaccante ci passa da sdraiato Prende la trappola Bellissimo sto mito ragazzi E in pratica adesso su questa porta Io cercherò di piazzare il Capcan più in alto possibile Secondo me se si può rispondere alla domanda Vai vai prova dai dai Allora secondo te hai detto vai Secondo me io non muoio Ok allora prova a strisciare vai No ragazzi no ragazzi Mamma mia oh lo sai che questa cosa io l'ho sempre data per scontata Però nel senso che ovviamente si muore Cioè io ho sempre pensato che si moriva Cioè allora adesso però mi sorge un dubbio no Tutti quelli che mettono lo scudo di Frost E sotto allo scudo di Frost ci mettono a trappola del Capcan Appena arriva un attaccante che scavalca lo scudo A trappola la si prende oppure no Eh infatti No Cioè e io che Se la metti in bassa no Mamma mia zio e io che mi credevo furbo ogni volta di che la mettevo lì in basso Mamma mia Non ci credo Allora aspetta un attimo Aspetta un attimo che muovi e te la metto un pochino più bassa Ok E riprova ora Non va comunque secondo me guarda Vedi Eh infatti Allora aspetta che te la provo a mettere ancora più bassa Eh vabbè te che da sotto grazie No no così vai Il limbo ragazzi Sì 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 Ancora nulla Allora aspetta aspetta che mi ho detto te la metto un pochino Oh se passi anche adesso Se anche adesso passi io non ho parole Sì vabbè oh Aspetta aspetta Eh vabbè Sì ciao No zio così no eh Così così esplodi Cosissimo dove no Oh eccolo Esploso 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 niente Perciò ragazzi abbiamo già risposto a questo mito Dipende da che altezza È messa la La trappola E dipende se il laser Becca oppure no L'attaccante Il prossimo mito ragazzi Ce l'ha scritto Daniele Buon miele E dice Tech ma se un difensore striscia Jackal riesce a individuare le impronte Mi saluti Mi chiamo Christian Grande Christian Ti saluto Anche se si chiama Daniele Lui in verità si chiama Christian Grande bomber In pratica ragazzi adesso userò Jackal E come potete vedere il nostro bomberissimo qui ha già creato un portale Perché hai fatto un cerchio Algal Questo ragazzi è il portale dell'evocazione Vieni Ok stop Fermati E come potete vedere io vedo i suoi passi Adesso fai una bella cosa Sdraiati E striscia avanti Ok Fai striscia striscia Attenzione ragazzi Ok striscia 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 Rimettiti in piedi Ok adesso rivedo i tuoi passi Ragazzi Mito confermato In pratica Se un difensore striscia Jackal non potrà vedere le sue tracce Il prossimo mito ragazzi Ce l'ha scritto Axel Steel E dice Ma se Doc Aby fa squillare il telefono A un giocatore che non è nell'area del jammer Quando il difensore si avvicina a uno di essi Si spegne automaticamente In pratica ragazzi Per andare a verificare questo mito Adesso noi chiederemo al nostro amico Della O Della smetti di fumare cannella e via qua Piazzaci un paio di mute Qui e là Ecco i modi Adesso tu fammi squillare il mio telefono Una volta che il mio telefono comincerà a squillare Io mi sposterò nell'area dove ci sono i jammer E vedremo se il telefono si spegnerà oppure no Vado Vai Alga chiama chiama Eccolo qua Adesso io mi comincerò a spostare Ed entrerò nella zona dei jammer No ragazzi Mito sfattato In pratica i telefoni continuano a squillare E fai una cosa bravo Piazzane un altro nuovo Nulla Nulla Il prossimo mito c'era scritto Giuseppe Zinga Chepi Però questo mito non ce l'ha scritto solamente lui Ma ce l'ha scritto anche XX Shadow E dice Ma si può attaccare un c4 O una bomba di smoke A un drone Creando un drone bomba Perciò adesso noi ragazzi Andremo a usare il nostro drone di eco E andremo subito a vedere se ci si può mettere Un c4 sopra Aspetta O ripiglialo No ragazzi Cioè Eh rimbalza Staccalo 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 ancora Riprova Oh Oh per un pelo Vai Oh Oh Aspetta 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 Mamma mia ragazzi Vado sopra In cielo Oh e non mi fa andare su sai L'ho bloccato Oh sto entrando dentro al c4 Fa andare nessun Ne giù Se mi sposta Si blocca solo il drone Eh bisognerebbe provare anche con gli smoke Adesso riproviamo con lo smoke Ok Ok Sta sopra Però Ho visto che rotola No È bloccato sempre Perciò mito sfatato ragazzi Non si può mettere sopra Al drone di eco Né il c4 Né le mine di smoke Oh vieni a tavola Bella è pronto Muoviti Si sta raffreddando Bravo Non sul tavolo Scendi giù E plenini mediric Scendi giù Mannaggia Scendi giù dal tavolo Via Uno in meno E plenini mediric Siamo arrivati Guardalo come è rimasto Gambellaria E plenini mediric Siamo arrivati anche alla fine di questo video Come sempre vi chiedo di lasciare un pollicione in su se vi è piaciuto questo video E come ho già detto prima Allora a te ci penso dopo se non mi fa finire a partita E come già detto prima arriviamo a 10.000 like per il prossimo episodio Intanto c'è della che sta rompendo i piatti Perché è una casalinga isterica Come sempre ragazzi scrivete qui sotto il vostro mito E se verrà spolliciato e riceverà un sacco di like Lo userò per fare i prossimi mitbusters Attivate il campanile per non perdervi i prossimi video E direi che per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo video Lo so cosa vuoi fare Tu infame Eh volevi Volevi Tom Volevo